Con il sistema del phishing prosciugavano i conti di ignari risparmiatori che fornivano loro informazioni personali e codici di accesso bancario. Otto persone residenti nelle province di Avellino, Salerno e Napoli sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della locale procura. Uno degli indagati è finito in carcere, quattro è domiciliare e per altre tre persone è stato disposto all'obbligo di dimora nei comuni di residenza. Le indagini coordinate dal procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli presero l'avvio nel 2021 a Solufra. Nel corso di controlli da parte dei carabinieri una coppia di fidanzati venne trovata in possesso di telefoni cellulari e carte di credito intestate a terze persone. Le successive indagini hanno fatto emergere l'esistenza di un gruppo criminale operante anche all'estero che riciclava il denaro sottratto ai correntisti. A farne le spese anche una coppia di Milano dal cui conto bancario cointestato sono stati portati via 125.000 euro trasferiti su conti correnti e carte prepagate degli indagati. Ancora da quantificare l'ammontare complessivo della truffa ritenuto comunque ingente. Gli indagati devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo a sistemi telematici e riciclaggio.